Quello dei volontari dell'Avis è un servizio di vitale importanza fornito alla utenza e alla potenziale utenza. Lo ha voluto rimarcare il presidente dell'Avis di Sarno, temporaneamente ospitato all'ospedale Martiri di Villa Malta, durante una delle consuete domeniche di donazione. In una stagione ad alto rischio, quale quella estiva, in molti casi è davvero una reale possibilità di sopravvivenza il poter contare su scorte di sangue in caso di emergenze. Come tanti altri giorni riusciamo sempre a fare oltre 50-60 sacche di sangue, tenendo presente che quest'anno abbiamo programmato 18 donazioni. Quindi pensate un poco voi, all'Asl Salerno 1, quante sacche di sangue arrivano? La prossima donazione è il 3 di agosto. Mi raccomando alla gente di donare perché soprattutto in questo periodo che ci sono tanti incidenti stradali, abbiamo bisogno del vostro aiuto, del vostro sangue per guarire gli altri.